Ingenti danni al patrimonio culturale e architettonico. Così il Ministero dei Beni Culturali ha definito la situazione nelle zone colpite dal terremoto di domenica 20 maggio in Emilia, già pochi minuti dopo il sisma. Messi in salvo gli abitanti è iniziata la conta dei danni al patrimonio artistico e culturale. Borghi, chiese, campanile e fortezze sono stati pesantemente danneggiati dal sisma. Tra questi anche il castello Estense di Ferrara, simbolo della città, è stato chiuso dopo i crolli di parte dei cornicioni della facciata. Nella città, oltre al castello Estense, il terremoto ha rovinato anche la torretta Leoni. In provincia Appoggio Arenatico è venuta giù la torre dell'orologio di Castello Lambertini. A Mirabello danni gravissimi per la chiesa di San Paolo. A Modena è stato chiuso il tempio monumentale dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. È crollata anche la torre dei modenesi a Finale Emilia, divenuta il simbolo della devastazione provocata dal sisma. Sempre a Finale Emilia ha subito danni pesanti anche il castello. Tra i paesi più colpiti c'è poi San Felice sul Panaro, a 30 chilometri da Modena, dove la chiesa è stata distrutta e dove è stata rovinata anche la rocca Estense del XIV secolo. A Sant'Agostino, tra Ferrara e Modena, è andata distrutta parte della facciata del comune, che ha ora una ferita aperta su uno dei lati. Vicino Bologna è caduta a parte della torre della Galeazza. Eretta nel 1300 come punto di avvistamento è considerata una delle più belle della Valpadana. A Mirandola è stato gravemente colpito il Duomo del Paese, eretto nel 400 e la cui facciata era stata rifatta nella seconda metà dell'800. Altri crolli ci sono stati nelle chiese di Cavezzo, Concordia, Novi e Medolla. A San Possidonio il sisma ha cancellato il campanile e la volta della chiesa. Il conto dei danni è ancora provvisorio e la direzione regionale per l'Emilia Romagna del Ministero è al lavoro per fare il primo inventario e un conto approssimativo dei danni.